Non c'era ancora, Caterina, la prima volta che sono stato a Mostar, in Bosnia, nel 1998. I CSI erano stati invitati a suonare, in quello che si sarebbe rivelato poi come uno dei nostri ultimi concerti a semo. Perché si è voluto tornare a Mostar, ha più a che fare con una sensazione che con una spiegazione, la sensazione di una frattura lasciata da saldare, tante fratture anzi, ognuna di loro un debito, tanto da sentire il bisogno di rivedere alcune delle persone incontrate allora, cercarli per sentirli raccontare che cosa sia maturata in loro in questi anni, come abbiano potuto riaffermare le loro singolarità di persone in un mondo che li avrebbe voluti confinare un'identità di parte. Raccontare come e quanto le loro scelte di non imbracciare le armi, o l'impossibilità di farlo, siano andate a determinare le loro vite. Raccontare come e quanto le loro scelte di non imbracciare le loro scelte. Mett' la luna si incarica dell'arabat, croce rotta è la spada che le elimina, spada rotta è la croce che l'anticipa. Raccontare come e quanto le loro scelte di non imbracciare le loro scelte di non imbracciare le loro scelte. Raccontare come e quanto le loro scelte di non imbracciare le loro scelte di non imbracciare le loro scelte di non imbracciare le loro scelte. Grazie.